C'era tanto entusiasmo ieri mattina al binario 1 della stazione di Porta Nuova a Verona per la partenza del treno bianco alla volta di Lourdes. Più della metà dei 1180 pellegrini iscritti quest'anno hanno viaggiato così, con la modalità più tradizionale in cui viene raggiunto il santuario francese sui Pirenei. Un viaggio particolare e lungo, sulle 22 ore, ma nel quale già si crea il clima che si respira per tutta la settimana, clima di preghiera e condivisione. A partire dal vagone attrezzato, che ospita gli ammalati più gravi, che viaggiano al sicuro assistiti da medici e infermieri e dove non manca la compagnia di barellieri e sorelle per farli sentire in compagnia. In totale, con il treno, due aerei e cinque pulma, sono 188 malati in pellegrinaggio. L'obiettivo primario è accompagnare loro sotto la grotta di Massabielle per ricevere da Maria la forza di portare con serenità e fede la sofferenza, ma è una condivisione che ha tanto da insegnare a tutti i pellegrini in viaggio. Diciamo che fino qui il viaggio è andato più che bene, la gente è rimasta contenta, felice e di questo me ne rallegro tanto. Quando siamo giunti a Ventimiglia, tanti hanno ricordato l'anno scorso, ma non l'hanno ricordato come un disagio, ma come una bella avventura. E questo vuol dire che siamo stati bravi tutti insieme ad affrontare anche questo momento dell'anno scorso. Il pellegrinaggio vero e proprio sta iniziando, allora qui a Lourdes, la nostra meta, all'insegna come sempre alla fine della fede e della gioia, della bellezza e della condivisione, soprattutto per gli ammalati, ma non solo perché tutti ne hanno un beneficio poi. E in primis appunto il Presidente è quello che deve trasmettere e sta trasmettendo. Sì, è vero. Intanto io dico sempre che il pellegrinaggio inizia alla stazione di Porta Nuova quando si parte e termina quando si arriva in stazione. Direi che è essenziale trasmettere quella serenità, quella gioia, quella pace interiore per sciogliere anche magari qualche tensione. Questo per me è un posto fantastico e magnifico che dà proprio quel senso di pace. Credo che Lourdes, il messaggio di Lourdes, sia proprio un messaggio che evangelizza gli ammalati soprattutto, ti fanno rimanere con i piedi per terra, ti ridimensionano i problemi. Dunque ti fa rivivere un po', ti fa ripensare la vita in un altro modo.